Con l'emanazione della legge regionale 9 riguardante le misure straordinarie e urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 della regione Abruzzo, è stata di fatto impedita la storica pratica della transumanza, vale a dire lo spostamento in estate delle greggi, delle mandrie e dei pastori dalla Puglia all'Abruzzo. Questa pratica, riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio Culturale e Materiale dell'Umanità, che fino a pochi decenni fa determinava lo spostamento di milioni di capi di bestiame, soprattutto vini, attraverso tratturi come il Reggio Tratturo, è sempre stata importante e resta importante per gli allevatori e soprattutto per gli animali. Confagricoltura Foggia ha chiesto al presidente della regione Abruzzo di rivedere la legge al fine di permettere anche quest'anno l'importante pratica della transumanza e per rafforzare questa richiesta ha anche chiesto l'intervento della ministra Bellanova e del presidente della regione Emiliano.